Dalla ricerca come si andrà avanti con l'esperimento? Naturalmente questi studi che abbiamo portato avanti finora sono studi eseguiti su tessuto adiposo bianco, su adipociti bianchi umani ma in vitro e quindi la traslazione di ciò che noi abbiamo scoperto in vitro al soggetto in vivo è ancora una fase che è futuribile ma non così lontana dal punto di vista pratico, soprattutto perché le sostanze note a attivare il tessuto adiposo bianco dal punto di vista del consumo calorico del consumo di energie per produrre calore sono sostanze note da moltissimi anni e molto utilizzate nell'industria alimentare e cosmetica e senza apparenti effetti collaterali e quindi questa strategia potrebbe essere sfruttata anche dal punto di vista farmacologico nel soggetto in vivo per poter portare a un'attivazione diffusa del tessuto adiposo bianco per poterlo consumare per poter poi far dimagrire il soggetto che ne abbia in eccesso